Grazie a tutti. Sì, doveva esserci già un incontro da novembre, siamo già in realtà a marzo e il rischio concreto è che più passa il tempo e più viene meno la possibilità di salvare questa che è una realtà invece che ha tutte le condizioni per poter essere salvata. E quindi l'assemblea di oggi vuol proprio formalmente e ufficialmente rilanciare la necessità di un tavolo di trattativa al governo. Esistono delle offerte serie di gruppi industriali perché unificare l'informatica e le telecomunicazioni è oggi l'elemento di novità su questo settore. E sarebbe uno spreco di sperdere 1500 persone che hanno competenze, che hanno capacità e noi non abbiamo nessuna intenzione di accettare che questo venga fatto sia per difendere il lavoro ma anche per qualificare le attività del nostro paese. In un eventuale tavolo quali sarebbero le richieste che porterebbe avanti il sindacato per il futuro di Utelia? Innanzitutto di sviluppare questa capacità, questo progetto industriale che unifica appunto le competenze informatiche delle telecomunicazioni e che è in grado su questo terreno di offrire dei servizi. E siccome, come dicevo prima, sono arrivate due offerte di gruppi industriali che sono interessati a rilevare entrambe le attività, di questo si deve discutere. Poi bisogna che il governo faccia degli investimenti sul terreno della banda larga, cosa che non sta facendo. Anzi, abbiamo visto che nell'ultimo mille proroghe hanno ridotto ulteriormente i soldi in questa direzione e addirittura li stanno di nuovo rivolgendo verso tecnologie che nel tempo rischiano di essere superate come quelle del digitale. E quindi c'è anche un arretramento, un ritardo sul terreno delle politiche industriali e una non volontà di voler affrontare questo problema. Quindi le due richieste sarebbero queste. Investimenti per la banda larga e favorire le soluzioni industriali per salvare Agile Utelia, riunificandole e favorendo un processo che metta assieme l'informatica e le telecomunicazioni. Si può dire che la vicenda Utelia è iscritta nel problema più generale di una mancanza di politiche industriali e di sviluppo per il nostro Paese? Credo proprio di sì, con in più il fatto che noi qui abbiamo dovuto fare anche i conti non con degli imprenditori ma con delle persone che sono state condannate. E quindi abbiamo visto come su un settore così importante si è reso possibile anche operazioni che hanno prodotto anche condanne per bancarotta, per frodi e per anche cose più gravi. E in questo senso credo che il fatto che in Italia possono tranquillamente succedere queste cose segnala un problema e allo stesso tempo indica un ritardo del nostro Paese su un terreno decisivo che è proprio quello delle tecnologie e dell'innovazione tecnologica.